un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio direttantistico in diretta dal Salvatore Favazza di Terrasini qui Antonio Massaro che vi parla match tra Partinica Audace e Cus Palermo oggi in programma alle ore 3 valido per la diciottesima giornata del Gironia di promozione siciliana fischia il direttore di gara inizia ufficialmente Partinica Audace contro Cus Palermo hanno iniziato in modo molto aggressivo ragazzi di abbenante la fase di non possesso apre tutto lungo dove c'è Cusumano cross a memoria per De Luca salvataggio sulla linea la testa di De Luca il pallone arriva Pulizzi buono il pallone giocato dall'ex marineo poi arriva Scrozzo che calce la conclusione Murata e allora contropiede del Cus Palermo buona intensità da parte di Russo che apre il gioco dove c'è Andolina che calcia palo occasionissima per il Cus Palermo come il pallone colpito da Lavardera calcio di punizione di Longo che con il passare degli istanti si faceva sempre più interessante Padeola si lascia cadere ma la punizione viene battuta con Carollo che cerca di sorprendere Cascione ci vuole qualcosina in più per fermare l'estremo difensore Partinica Audace alla fine di questo primo tempo un po' bruttino anche se il ritmo non manca Liga si complica un po' la vita e infatti regala palla Longo prova ad andare l'undici dribbling lo lascia sul posto buon mancino la parte di Longo palla sopra la traversa indietro mi scuso in difficoltà allora deve rinviare poi Pulizzi ce l'ha giocata per Longo e allora Longo va fino in fondo il miracolo d'Inzenna ad un passo da 1-0 il Partinica Audace Padeola si propone in avanti da Mico c'è la soluzione orizzontale che si chiama Cusumano il cross scivolata ai suoi danni lascia giocare il direttore di gara da Mico vince il contrasto Scrozzo ripulisce Cusumano si è già rialzato il cross ci arriva Scardina che calcia con forza poi Scrozzo altro rimpallo pallone allontato Pulizzi ha iniziato bene il Partinica Audace gioca in aria difende da Mico prova a girarsi ancora una volta Andolina poi va per viola di entrare Scardina che non se l'aspettava c'è a fare una bella corsa all'indietro prova ad andare Moncada anche lui è appena entrato poi la Vardera occhio al suo destro Cascione l'ha inchiata lì poi Scrozzo libera per Butera che la tiene in campo si allunga anche bene c'è De Luca tutto solo Butera l'ha visto servito De Luca anticipato da Inzenna Banzelmo col destro forse troppo su Inzenna che però lo manca Scrozzo la regala al Cus Russo palla allargata da lì finta del 20 tiro col destro blocca Cascione Liga Tiro da fuori Traversa E poi Scrozzo Triplice fischio del direttore di gara 0-0 Ancora una volta come l'andata tra Partinica Audace E Cus Seconda partita consecutiva senza segnare per il nero verde Grazie a tutti